Vediamo adesso un altro esercizio semplice per il recupero dell'estensione sempre Il paziente si posiziona a prono con le gambe fuori dal letto in modo da avere il ginocchio, quindi la rotula, completamente fuori dal bordo e la gamba che sia il più rilassata possibile Quindi si chiede di mantenere la posizione per un minuto fino ad arrivare a 2-3 minuti in base alla tolleranza ripetendo l'esercizio per 5 serie con un minuto di ricubra tra una serie e l'altra